buongiorno da obiettivo news oggi 5 febbraio e sant'agata ed è anche la giornata mondiale della nutella nata nel 2007 dall'azienda italiana ferrero produttrice della celebre crema spalmabile l'obiettivo era quello di creare un'occasione speciale per celebrare il piacere che la nutella porta nelle nostre vite e per coinvolgere le persone di tutto il mondo in questa celebrazione golosa oggi anche la giornata nazionale delle minne di sant'agata dolce siciliano dalla particolare forma semisferica che ricordano seno di una donna e vengono chiamate minne o minuzze di sant'agata e la giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare tra i nati oggi annoveriamo fabrizio frizzi 1958 e cristiano ronaldo 1985 tra i scomparsi ricordiamo l'attore christopher plumber 2021 e kirk d'agrass 2020